In casa a Maranello ed era già tardi, quando non si vede l'ora di mettersi sul divano e dire ah, finita la giornata, mi arriva un messaggio da Kimi con un'immagine, ho detto ma a quest'ora apro e c'era lui con la gamba ingessata, no veramente, doveva ingessata e una parola perché ero abituato a ballare poco, c'era scritto shit, punto esclamativo, a quel punto lì mi sono cadute le braccia ho detto una brutta parola, poi ne ho detto un'altra, e poi a un certo punto ho detto caspita, qua mi viene a dirlo al presidente, stavo per prendere il telefono e chiamare il presidente, dicendo qua un casino, arriva la sua telefonata ah ah ah, era una broma è vero Kimi, è vero? sì, ho detto, ho avuto una società che ha fatto una protezione per me, quindi hanno avuto un tasso sì, lavoravo, collaboravo con un'azienda che faceva dei tutori, quindi ecco ho fatto una foto e ho fatto a posto, ovviamente mi sono divertito però no io no aspetta non ah 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 ah